Signori e signore, se mai ce ne fossero nel canale di Sam L'avete visto trionfare al pallone d'oro di Youtube Italia? L'avete visto in tanti video su Pirlas V? L'avete visto dominare nei derby degli youtuber di Federico Marconi? Samuel è sempre lui, prova col fascino! È la rete del Milan! Tra i movimenti che in pochi riescono a capire, difficile stargli dietro Oggi testeremo le sue abilità per capire quanto è forte off Samuel Oggi è il giorno in cui scopriremo e daremo risposta a questa domanda signori Ma abbiamo parlato troppo, è tempo di scendere in campo ragazzi, cominciamo Ok, siamo qui con off Samuel, questo è il momento della verità, questo è il video decisivo, ok? Non come gli altri Qui testeremo le tue abilità nella tecnica, nella velocità e nel tiro Tutte e tre abilità che sono fondamentali nel gioco del calcio Quindi risponderemo una volta per tutti alla domanda quanto sei forte Che tanti ci chiedono nei commenti da noi, sono sicuro che le chiedono anche a te E oggi finalmente vedrete un po' Samuel è andato a riscaldarsi, nel frattempo signori vi ricordo di iscrivervi a questo canale Perché Pirlas 2 è già arrivato a un milione, facciamo arrivare a un milione anche off Samuel E già che siamo qui ne approfitto per ringraziare il circolo Tennis Italia Qui a Bologna per averci ospitato per questo video trovate tutte le info in descrizione Samuel! Ok ragazzi lo vedo pronto, lo vedo pronto E allora cominciamo Siamo! Allora Samuel prima prova tecnica Inquadriamo appunto i coni Allora dovrai superarli in velocità ok Dovrai fare tre giri e ti imposto un obiettivo ok Io sarò qui a cronometrare L'obiettivo è riuscire a fare i tre giri e arrivare qua entro 25 secondi ok Ok Quindi vediamo quanti tentativi ci metterai Se ci riesci subito, se non ce la farai Perché il fallimento fa parte di questo video Ci potrebbe essere Ma noi non lo vogliamo ragazzi Ma noi non lo vogliamo Dai! Ma noi non lo vogliamo Vediamo eh Questa da già partiamo con una sfida che non è facilissima Quando ti tolvi via parti ok Skip Skip su te stesso Allora 3, 2, 1 Partiamo allora In rapidità Come fossero degli avversari che devi saltare Ok ultimo giro Sei a buon tempo Sei a 16 E stoppiamo Signori 24 e 58 Di poco sotto i 25 Complimenti Possiamo impostare un obiettivo ancora più basso Possiamo impostare una cosa più basso Sì Perché comunque vedo che hai margini di miglioramento Di velocità Insomma Quindi io imposterei a 20 secondi 20 secondi Voglio proprio esagerare Ok ragazzi Questa è veramente tosta Ma se dici questa Direi prova più che superata Ok Allora 3, 2, 1 Puoi cominciare Parte Sam Ok Attenzione Ha toccato Però va bene Mamma mia 15, 16, 17, 18, 19, 0, 6 Signori Ci è riuscito Anche se io darei una piccola penalità Ok Perché ha beccato il cono Ok Piccola penalità di mezzo secondo Quindi comunque diventa 19, 56 Prova comunque superata Mamma mia Complimenti E adesso passiamo alla velocità Ok Sam La sfida di tecnica è andata Ok Ora c'è la sfida di velocità Quindi velocità senza il pallone Ok Puro scatto Questa sfida si chiama suicidio Ok Quindi è molto molto faticosa Come state vedendo Questo è il campo Ok Dovrai toccare il cono Il primo cono Tornare indietro Sì Andare verso il secondo cono Quello più in fondo E poi fare uno scatto Fino al punto di partenza E lì È finito tutto insomma Ti do 9 secondi Per riuscire a fare Tutto questo percorso 9 secondi Ti dico Ci ho già provato io E non è tosta Di più Ok Ok E allora Dietro la linea Guarda qui che fa il fulbo 3 2 1 Via Si parte allora Attenzione ok Primo con la cimente Ravissimo Ok E adesso abbiamo L'ultimissimo scatto Signori Ah ragazzi 11 secondi 11 secondi Veramente tosto Devo dire Ti può sembrare fattibile Ce la posso fare Posso spingere fino in fondo Ok Bisogna migliorare Almeno 2 secondi E 20 centesimi E allora 3 2 1 Parti Più veloce Di questo in volt ragazzi Ottomol Dalla giamaica Bravissimo Che sta un botto Migliorando il tempo di prima Però è veramente difficile Attenzione Ah anche qua 11 netti Signori Tu sei già pronto Per un terzo E ultimo tentativo No Non lo vedo Molto pronto Bel respiro Sei molto bravo Con la palla Forse la velocità È un po' quella cosa Che ti mette in difficoltà E allora Basta sconti È ora di partire 3 2 1 Vai allora Qui vediamo tutto Alla velocità Pisiamo Il Dalgana Occhio che il tempo è buono Occhio che il tempo è buono 10 secondi e 15 Quasi sotto ai 10 precisi Mamma mia E qui ti ho visto Credo che questo sia Veramente il massimo Che possiamo estrapolare Quindi di poco Ti devo dire Che questa sfida Non è superata Di tecnica 100% Velocità Ti do un bel 8 su 10 Però sei il bel 10 Qui per passare Ok Adesso passiamo Al tiro La terza e ultima sfida Sarà quella di tiro E ho portato un portiere Non uno qualunque Ma un portiere Vero e proprio Ok Che ha giocato in una squadra A me molto cara Nelle giovanili del Bologna Del Bologna ragazzi Wow Classia 2001 Simone Pechini Stiamo vedendo lì Che si sta riscaldando Quindi bucarlo Non sarà molto facile Ma in generale Questa sarà la sfida Piuttosta delle tre Ok Mi raccomando Scaldami nel piedino Certo E qui ci devi dimostrare Veramente chi sei Ti chiedo di fare Tre tipologie di tiro La prima è tiro libero Quindi tipo punizione Puoi tirare dove vuoi Come vuoi La seconda è tiro al volo Quindi ci sarà un altro Crossatore professionista E tu dovrai impattare La palla al volo E metterla dentro Ok E la terza e ultima E quella dei calci di rigore A guardarlo Ti fa un po' paura Ragazzi Il portiere del Bologna Io ce la metterò tutta E qui Vedremo Però Guardate lì È enorme È preparato È fortissimo ragazzi È fortissimo Vabbè Dai Iniziamo Ok Samuel Tu ci sei Ci sono Il portiere è pronto Ti sta aspettando Voglio vedere la palla dentro Ok Ok Tire libero Vai Voglio vedere almeno Tre gran gol Buone Buono Potente Però un po' imprecisione Finchia Hai già beccato la GoPro No No Ho beccato la GoPro Sei riuscito a beccare la GoPro No Non è la sfida di precisione Questa Ragazzi Pierre è andato un attimo A recuperare la GoPro Che ho Per sbaglio beccato Che parata Eh ragazzi È forte forte Mamma mia Merda Che parata ha fatto Non è uno a caso Questo Vede Si vede Oh E lo buca Dai Ho sorpreso Nel pallo che non si aspettava Ecco Samuel ancora Prova Golazzo Mamma mia Che golazzo E l'hai visto ragazzi Che traiettoria Tonto le ragnatere Dall'introcio Dai Samuel Sono tornato Perché voglio vedere un gol Ok Tu sei Pierre Sì Sono tornato perché voglio vederti Mettere la palla dentro Niente Oh proprio perché sei tornato tu eh Non farti intimorire Lo so che ha tanta presenza Occupa la porta Ma tu sei più forte Sì Sì Bucato Sì Sì Bucato Ma adesso Cambiamo Tiro al volo Ok Tiro al volo Tiro al volo Ok Ci sarà Gabri a crossartela Gabri entra Grande Gabri E tu puoi colpirle Puoi colpirle in qualsiasi modo Anche di testa Basta che sia al volo Va bene Perfetto Però me la devi alzare bene Gabri Guarda che piedi che ho Me la devi alzare bene Certo Va bene Ci siamo Oh ragazzi Fortissimo questo portiere Mamma mia Fa delle parate Su Non cercare alibi Samuel Ti sai Ci siamo Vai allora Vediamo il primo tiro al volo No Non ci siamo Se questo è il tiro Samuel Non ci sia Prove niente Bello Grandissimo Bello Primo gol al volo Mi è piaciuto Che volo È Superman Non ci credo Che tiro ti era venuto Almeno un gol E poi si passa i rigori Bello Top Bello bello Direi che Possiamo col colpire così No Ci sono i rigori adesso Ci sono i rigori Va bene Andiamo Andiamo Tiri al volo fatti Adesso c'è la sfida Dei calci di rigore Che può sembrare Sulla carta quella più facile Però occhio Perché lo vedo abbastanza bravo E soprattutto È uno che si butta E arriva negli angoli Più immaginati Meno male che è uno che si butta È un portiere Un portiere Mamma mia che tempismo Io ti direi 5 tiri in totali Ok Se sono più i gol Vinci tu Se sono più i non gol Vinci il portiere E prova non superata Ok Quindi 5 rigori Cerca di sfruttarli bene Al massimo Bisogna partire già con un gol Te lo dico Dai eh Non farti fregare Da sto sguardo Vediamo dove la mette No E va bene Subito così Io vivo andato Altri 4 rigori Almeno 2 gol Ok Samuel vediamo cosa si inventerà questa volta E ci arriva Tu ci arrivò Che parata Un gol Un errore 3 tiri rimanenti Wow ragazzi Bene Samuel Vediamo questa volta Imparabile Imparabile Bravo Quindi 2 gol e un errore Altri 2 tiri Dove la piazza Che cosa ha detto Ariga droga Ariga Ariga No è legale 2 gol 2 parate Ultimo tiro Ultimo tiro Se lo fai Ultimo tiro Prova superata Guardate che ride Guardate che ride Se lo fai prova superata Se no ha vinto lui Ancia Attenzione Tiro decisivo Sangue E come il primo Non beffa così Dai Oddio Grande Oh questa ha quasi beccato la traversa E' un po' rischiato Un po' rischiato Però Personalità Tiro di te Allora Pro ha superato anche nei calci di ricore Hai trovato un degno avversario Devo dire a questo giro E quindi commentate voi Quanto è forte Samo E dategli un voto da 1 a 10 Io personalmente gli do un bel 9 più Per questo video Il 10 no Perché sei mancato in alcune cose Soprattutto nel tiro al volo Si può migliorare Potremo migliorare in un altro video Certo Invece dateli voi un voto da 1 a 10 Qui nei commenti E ragazzi Iscrivetemi Chi volete che io porti Di youtuber Di calciatore E lo testeremo Per bene Quindi ragazzi Questo video ci conclude qua Io ringrazio Mitico Pierino Grazie mille Gabri che ci sta filmando Bella Gnabri Simone Pechini ragazzi Mi raccomando Grazie Link in descrizione Per trovare anche lo su Instagram Se volete andare a seguire E l'Instagram di tutti noi Noi ci vediamo al prossimo video Lilia Allo studio E sono Samuel E mangio il riso E con il pollo E con il curry Con il pollo E con il riso E con il pollo E con il riso